Coce Ceroni, la Virtus riesce a salvarsi in gara 2, una Virtus che stasera l'ha presa un po' sotto gamba questa gara, parte bene però la Jolly poi si fa sotto anche in 7. Diciamo che probabilmente la partita l'abbiamo presa sotto gamba forse nella parte centrale della partita, quando ormai, tra virgolette, giocando in scioltezza, forse siamo andati un po' troppo in scioltezza, anche mentale. Quindi abbiamo consentito a loro di rientrare, noi facevamo sempre le scelte sbagliate, affrettavamo i tiri e soprattutto abbiamo avuto qualche giocatore un po' troppo nervoso stasera. Una gara che comunque maschia, Catanzaro mette in campo dall'uomo, Procopio, Markovic, Dolce e Commisso. Da un'altra parte una Jolly decimata dopo i problemi che ci sono stati in gara 1. Sì, io a proposito volevo dire due parole, perché credo che lo sport probabilmente è un'altra cosa, almeno rispetto a quello che ho visto io, perché credo che non siano successi dei fatti così gravi nella partita di andata per cui ci dovesse essere queste decisioni così disumane. Credo che se vogliamo fare qualcosa in questa regione, che per me è difficilissimo, dovremmo incominciare un attimino ad essere un po' più comprensivi, tra virgolette, nel senso che non, ripeto, non essendoci stato nessun atto di violenza, una spinta. Cioè alla fine è finito tutto in tranquillità, abbiamo invitato anche i giocatori della squadra avversaria a fine partita, il nostro ragazzo ha fatto 18 anni, sono venuti a mangiare la torta con noi perché sono dei bravissimi ragazzi. Ovviamente loro hanno provato a mettere la partita sul loro piano, che è un po' più agonistico. Quindi da questo punto di vista io faccio i complimenti ai ragazzi della Nova Gioli che hanno messo nel campo quello che è ovviamente la loro caratteristica migliore e hanno messo tutto quello che potevano avere per vincere la partita e di questo ne devono essere grati. Però faccio i complimenti ai miei ragazzi che per una stagione hanno lavorato duramente e che probabilmente meriterebbero un trattamento migliore da parte di tutti. Che stagione è stata per la Virtus quest'anno? Io sinceramente sono abbastanza soddisfatto, tu mi conosci, sai che sono un tipo che pretendo molto sia da me che dai ragazzi. Però onestamente quest'anno abbiamo lavorato duramente anche grazie all'aiuto di Raffaele Licalzi che è stato il mio assistente per una stagione e mi ha supportato e sopportato grazie ai dirigenti Dolce e Farenza e ai genitori che sono stati veramente incomiabili nel seguirci in tutte le trasferte e ritengo che dal punto di vista tattico e tecnico siamo cresciuti tantissimo e anche dal punto di vista di mentalità. Credo che ancora abbiamo tanto da lavorare però credo che questi ragazzi continuando a impegnarsi in questo modo possono prendersi delle soddisfazioni. Io glielo auguro perché sono dei ragazzi eccezionali. Il prossimo anno cosa ti aspetti? Ancora presto? Diciamo che io ancora abbiamo un altro mesetto in cui dobbiamo lavorare, ci sono ancora le semifinali regionali e noi teniamo di fare bella figura e quindi mi aspetto sicuramente di finire la stagione in un certo anno. Poi per il prossimo anno si vedrà, io in questo momento penso soltanto e esclusivamente al presente. But one thing I know, I know, I never love these holes